Covid-19 Sicilia, 469 nuovi positivi, 1.048 guariti e 3 vittime, a Siracusa 50 casi. Sono 469 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 14.977 tamponi processati. L'incidenza sale al 3,1%, ieri era l'1,6%. L'isola torna in testa ai contagi giornalieri, al secondo posto con 338 c'è il Veneto. Gli attuali positivi sono 11.198 con una diminuzione di 582 casi, i guariti sono 1.048, mentre si registrano altre 3 vittime che portano il totale dei decessi a 6.880. Sul fronte ospedaliero sono adesso 405 ricoveranti, 10 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 40, 5 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio, nelle singole province a Palermo, 42 casi, Catania 298, Belsina 15, Siracusa 50, Ragusa 10, Trapani 13, Caltane 7, 18, Agrisento 15, Enna 8.